Ciao amici di Taliato Games, eccoci finalmente a poter parlare di EA Sports FC 24. Era stato preannunciato come un reveal gameplay, in realtà c'è stata proprio una conferenza, è salito Andrew Wilson, il director di EA Sports, il vice director di EA Sports, e alla fine informazioni ne abbiamo. La prima è che il gioco uscirà, come tante indiscrezioni dicevano, il 29 settembre. È ufficiale, il 22 settembre, una settimana prima, si potrà giocare, chi acquisterà la versione Ultimate Team, e probabilmente ci saranno anche le 10 ore di accesso gratuito per chi è iscritto a EA Play su Xbox Game Pass Ultimate o anche su PlayStation e PC. Copertina di gioco con Holland, come era stato un po' preannunciato, anche questa indiscrezione si è rivelata vera. Dal video, come potrete vedere, si vede una sequenza in cui uomini e donne giocano assieme, che l'Ultimate Team avrebbe avuto anche le giocatrici femminili, era abbastanza chiaro. Sorprende un po' vederli assieme, questo ve lo dico onestamente, perché si va oltre il calcio reale dove uomini e donne sono divise. Sul fatto che ci fosse un Ultimate Team con le donne, non ci vedevo niente di strano e mi sembrava anzi normale, ci saranno anche alcuni campionati. Il fatto che vengano mischiati lascia un po' interdetti, perché ripeto, si va oltre il calcio, voglio dire, giocato, ma scelta di EA Sports che poi qualcuno potrà gradire e qualcun altro no. Vediamo il trailer, ve lo dico subito, come al solito, EA Sports, gameplay trailer, si vedono davvero pochissimi secondi, cercherò di farveli vedere maggiormente, ma in realtà di gameplay c'è davvero poco, perché queste sono sequenze in game, ma di cutscene, uomini, donne, eccetera, eccetera, party, EA Sports FC, ecco Haaland con questo cursore, si inizia a giocare, chiesa della Juve, ma qui di game c'è poco, sono sempre cutscene. Bellissima questa sequenza, ci mancherebbe, la Hypermotion sarà una versione più aggiornata ed evoluta. bella, anche questa animazione ci mancherebbe, ma qui di gameplay ne vediamo davvero poco, questo sarà il play styles di cui si è parlato, una novità, qui vediamo le donne giocare con Kera, ecco qui, qui quasi quasi in game, qui vediamo una bella azione, un bel colpo di testa, ma qui game poco, Donnarumma, Marquinhos, ecco qui, e qui vediamo a questo punto le squadre di, ecco qui, Figo che esce, ed ecco qui vediamo donne e uomini assieme in qualcosa che sembra proprio essere l'ultimate team, qui tornano le squadre, diciamo, normali, Verratti, eccolo qua, questo è il pochissimo gameplay che si può vedere, basta, finito, avete visto, davvero poco, davvero poco, adesso lo cercheremo di rivedere, qui Haaland che tira questa mina terribile, qui Guardiola entra in campo, esultanze, esultanze di tanti giocatori, Sony, Juve, Haaland, e Sport, welcome to the club, e qui finisce il gameplay trailer, vorrei farvi rivedere le scene, non mi sa che era un po' prima, eccole, ecco, questo è il pochissimo gameplay reale, gameplay che si vede, ecco, questo, per carità, non mi sembra affatto male, mi sembra un'evoluzione di FIFA, che adesso non si potrà più associare a FC 24, vedo gli spalti, gli spalti sono fantastici, devo dire, e poi il resto invece sarà tutto a valutare, mi ricorda molto FIFA 23, vi dico la verità, sembra un'evoluzione anche bella, onestamente, bellissimi gli effetti luce, devo dire, almeno così, e qui già finisce, rivediamolo ancora, sono pochi secondi, questa è la barra spazio, eccolo qui, questa è una immagine in game, vediamo come sono dislocati bene i giocatori, vedo il pubblico davvero bello, anche le animazioni non sono male, aspettate, vediamo se riesco ad andare a velocità, riproduzione, velocità, più lento, vediamo se si riesce a vedere qualcosa di meglio, così, ecco, così va un po' più lento, possiamo vedere l'animazione, finito qui. Ragazzi, questo è quanto, lasciamo una sequenza più carina per la fine del video, questo è quanto, reapilogo, 29 settembre, giorno dell'uscita di FIFA, scusate, EA Sport FC 24, è l'abitudine, come per i football, pro-evolution soccer, uscita, versione standard, 22 versioni Ultimate Edition, probabilmente anche 10 ore di gioco, tutte le licenze confermate, non ci sono novità particolari, non si è parlato dello stadio del Barcellona, si è parlato della Liga, della Premier League, molto meno della Serie A, Ultimate Team anche con le donne, Ultimate Team sembra, almeno dalle sequenze, che avrà squadre miste, mi pare che sia tutto, un secondo di gameplay, dopo tutta questa attesa, vediamo un po' quanto è durata la presentazione, ebbene, un tre quarti d'ora buono, per un secondo di gameplay, ce lo aspettavamo, ha sempre fatto così EA Sports, da FIFA a EA Sport FC, questa tradizione non l'ha cambiata, questo è tutto, davvero, davvero tutto, ragazzi, spero che abbiate apprezzato, la rapidità con cui vi do tutte queste informazioni, fatemi sapere cosa ne pensate, di queste novità, vi do appuntamento al prossimo video, su EA Sport, o su EA Football, o su FIFA, o su UFL, staremo a vedere, grazie per l'attenzione, e al prossimo video, ciao! 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 Grazie a tutti